berlusconi è stato assolto la stampa italiana no il giorno dopo la soluzione di silvio berlusconi avvenuta per un semplice cavillo tecnico la stampa italiana passa la giornata a tessere lodi all'ex cavaliere come nuovo santo del garantismo internazionale l'occasione è ghiotta all'orizzonte si intravede la possibilità di ripetere l'operazione già fatta con giulio entreotti cioè usare una assoluzione in tribunale per cercare una soluzione della storia ma la storia come nel caso dell'ex senatore a vita non assolverà berlusconi così si parte con il messaggero che titola tutta pagina berlusconi nuova assoluzione lasciando al lettore il retrogusto di una carriera di silvio costellata da certificazione della sua innocenza e non da leggi fatte su misura dai suoi governi piene di la che sotto il fango niente titola galvanizzatissimo augusto minzolini sul giornale nei box del giornale si scatenano lavatelo delle toghe dopo 30 anni scrive stefano zurlo che poi in questi 30 anni sono successo un po di cosucce tipo la condanna del braccio destro di silvio berlusconi marcello dell'utri che trattava con cosa nostra proprio per conto di berlusconi ma deve essere sfuggito in redazione marcello per averga un editoriale dal titolo un danno per l'immagine dell'italia e uno si immagina e che effettivamente abbia ragione ma pera lo dice per il motivo opposto e poi e poi c'è ovviamente minzolini che ne approfitta per dare addosso a il da boccassini parlando di inquisizione più che di diritto ripete la solita litania del cavaliere fatto fuori dalla politica e dalla vita pubblica e minzolini sta parlando di uno dei tre leader dell'attuale governo di un ex candidato della presidenza della repubblica dico non male come sparizione della vita pubblica ma il punto più alto dell'editoriale sono le pressioni per non dire le minacce scrive minzolini che i magistrati hanno messo in atto durante il processo siamo sicuri che minzolini posata la penna sia andato in procura a denunciarle queste pressioni se come no stavate aspettando libero vero eccolo qua il quotidiano fondato da vittorio feltri detta la linea politica bellusconi assolto scrive quindi pm alla sbarra niente non ce la fanno immaginare una giustizia che funzioni anche con le soluzioni anche per dei tecnicismi come in questo caso sallusti scrive in prima pagina un editoriale che aveva in canna probabilmente da anni e racconta di una cena speriamo che non fosse una cena elegante in cui un presunto esperto di diritto avrebbe detto al cavaliere ma come potrebbe un cittadino qualsiasi difendersi da tutti questi processi senza avere in tasca il suo denaro ora lasciamo perdere la salomonica risposta attribuita berlusconi non so se l'avete notato quando berlusconi viene raccontato dai suoi sembra sempre uno statista illuminato poi basta mettergli sotto il naso un microfono e spara delle bestialità indicibili registriamo però che per sallusti domani potrebbe capitare a un qualsiasi signor rossi un impiegato anonimo di avere contatti con la mafia di essere scritto una loggia massonica di incontrare un'infinità di corrotte corruttori di avere a disposizione uno stuolo di avvocati che entrano in parlamento per difenderlo non nei processi ma dai processi poi c'è tutto l'armamentario della solita propaganda un piano inventato tavolino da un sistema ci ha messo la lettera maiuscola definito soviet quindi piacerà berlusconi vista le sue ultime uscite poi le veline passate giornali e alla fine e alla fine addirittura sallusti si commuove pensando a quelle ragazze che negli anni avevano frequentato le cene di berlusconi finite nel tritacarne mediatico fenomeno non poteva mancare il foglio nella schiera dei giornali che dimostrano di averci capito moltissimo per l'occasione hanno tirato fuori dalla naftalina giuliano ferrara che meraviglia la soluzione del cav scrive ferrara e viva la nostra battaglia contro una pessima inchiesta il politicamente corretto dei mutandoni alle ballerine gli anni di galera secondo ferrara berlusconi se le meriterebbe invece per le sue dichiarazioni false tetenziose pro putin e nel suo geniale editoriale ferrara riesce a dirci che perfino rubi nipote di mubarak affermazione votata dalla maggioranza di quel parlamento e tra l'altro anche da alcune persone che oggi sono tra i competenti quelli al pollo della serietà il cosiddetto terzo polo ecco dice che quella era un'invezione di fertile spessore solidale per evitare guai e pasticci giudiziari una giovane persona del giro in questa frase di ferrara c'è tutto se le bugie vengono raccontate per quelli del giro allora sono buone azioni e valgono come una medaglia a sto punto povero putin che è uscito dal giro del foglio e di ferrara pesta dura anche il riformista assolto 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 inizia così l'articolo di tiziana maiore fine della persecuzione più lunga del secolo scrivono e nell'editoriale del direttore rubi che di fatto non sussiste è solo una povera ragazza incappata in un anziano presidente del consiglio con il cuore troppo grande diventa però utile per una riforma della magistratura e anche qui giù attacchi a boccassini travaglio sempre a nome del garantismo poteva mancare la verità no titola piena pagina bunga bunga dei pm è un corsivo del direttore belpietro che dice che il governo berlusconi è caduto per le vicende avvenute sotto le sue lenzuola non ricorda belpietro lo sfaccello economico di quel governo e lo stato pietoso dell'italia agli occhi del mondo per vicende ben più pesanti la riabilitazione di silvia un lavoro duro ma qualcuno lo deve pur fare